Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.Ormai è ufficiale, gli ammiratori della coppia ed il mondo della cronaca rosa stavano soltanto aspettando la conferma di uno dei diretti interessati e adesso è arrivata Luca Salatino ha rotto il silenzio dopo la fine della relazione amorosa con Soraya Lanceruti Per lei aveva abbandonato il GF VIP 7, dicembre scorso.Ogni giorno che trascorreva nello spiato appartamento di Cinecittà, Luca Salatino piangeva perché non c'era con lui Soraya Lanceruti Era stata la sua scelta, sotto la tipica pioggia di petali rossi, a uomini e donne di Maria De Filippi Progettava una vita intera al suo fianco. Ma quel sogno è finito all'improvviso. Luca Salatino e Soraya Lam, è finita, l'annuncio ufficiale.L'ex corteggiatrice di uomini e donne avrebbe preso una nuova casa a Como e un suo vicino ha svelato all'esperta di gossip Deyanira Marzano che Luca Salatino non si sarebbe mai visto da quelle parti Al suo posto, per di più, un presunto giovane imprenditore della Napoli Bene. Diverse le segnalazioni nelle quali si parla di questa possibile nuova frequentazione di Soraya Lanceruti Ora è l'ex del GF VIP 7 a parlare.Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex protagonista dell'ultima discussa edizione del reality di Alfonso Signorini ha annunciato, una volta per tutte, la fine della relazione sentimentale nata nel dating show Tra me e Soraya è finita. Vi prego di rispettare questo momento Vi voglio bene, poche parole, quelle che servivano. Ma è chiaro che racchiudano dentro tanto dolore, di recente aveva definito l'ex fidanzata come la sua vita, più e più volte Per lei ha rinunciato ad un'esperienza rara. Così è la vita.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video